Musica Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Cosa è? Laura! Cosa? Avvie ha detto che non ha toccato nulla. Non ho toccato nulla. Non ho toccato nulla. Ho ristorto l'original. Cosa stava cercando di scendere. La ragazza venivano insieme prima di seguire il cammino della vita. La ragazza venivano... come quella cosa in Mexica. Questo dovrebbe aiutare il prossimo. Andiamo. andiamo qui. andiamo a vedere ciò che posso trovare. Quello bene. The twins. Life. And death. Sì. 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 Triniti è già là, cercando di spettare il suo passaggio. Sì. 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 I wish we knew what was going on. We're 5 miles away. I am tired of covering for those assholes. I'll let you know if they find anything. Out. I don't know. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. She's gone. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. There's been. There's been a bloodbath here. What happened. What happened? What happened? Sì, sì. Sì, sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti I found something here too Some numbers I'm gonna clear it off The numbers on the pillars look like the first half of dates Isshel on the left, Shakshel on the right I'm gonna clear it off the right Grazie a tutti i nostri spettatori. Sì! 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 Sì, sì. 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 Cozumel, maybe there's a clue. In the Maya long count calendar, all dates have five numbers. This numeral was damaged to look like a 13, but what if it's really an 8? That's a 2,000-year difference, and the constellations would be in a completely different position, so the star path would lead west to somewhere in Peru. The last number on the left pillar is zero. The last number on the left pillar should be a zero. Okay, Jonah, what's the final number for shack shell? Line across with two dots on top of it. Seven, I think. Thanks. Thanks. That's it. That's it. I think. I think that's it. That's it. That's it. That's it. Jonah. Hey, Lara. It's Abby. Oh. Hey, Abby. I found a mural. It seems to depict some kind of journey. Entering through a jaguar mouth follows a serpent toward a silver eye. Uh-huh. On the way, there's a spider and an eagle that rises toward a temple. Okay, I don't know about most of that, but the jaguar mouth is back this way. Really? Yeah. Cat sculpture, big teeth. Oh, here. He's back. Lara, you okay? Yeah, I'm heading back. Good. I think you're gonna like this. I don't understand. It's almost like a creel. Hmm, interesting. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Come on, move wide! Let's stay visible! Arrival is eminent. Hangar in sight. Let's go. We're here. Give us 60 seconds and we're in. Come and form a perimeter. Where'd it go? Where'd it go? On your left. Get in there. What are those creatures? God. Bodies everywhere. The creatures killed them. But why? Jonah, Abby. Hey, Mara? I saw something. Trinity is being hunted by some kind of... creature. What? It made hissing sounds. I moved so fast. Lara, that sounds like the legend of the Pistaco. You pulling our legs? No. I know what I saw. Are you safe? Yeah, I'm on my way back. Impossible. I can't carry anymore. Uh... Hoo, what? Mm! 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 Grazie a tutti. 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 We're down stairs. What do you think we'll find? The mural showed a series of trials. I may know another way around. Okay. We're down... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.